La città non ha e non pensa di avere una vita autonoma. Questa affermazione utilizzata da Tommaso Fiore a proposito di Taranto conserva intatta la sua forza paralizzante. A distanza di oltre un secolo di tempo poco o quasi niente sembra essere cambiato. Ancora Fiore in un popolo di formiche con la sua scrittura iconoclasta e il guizzo del giudizio non schiavo di letture stereotipate dispensa la sua analisi sui luoghi che vissero i fasti della Magna Grecia. La povertà afferma l'intellettuale artomurano il trasformismo, l'accademismo dei ceti dirigenti locali, la cattiva amministrazione e un carattere in parte artificioso dei tarantini rendono questa perla del Mediterraneo una bellissima incompiuta. Tra la Taranto descritta da Tommaso Fiore e quella dei nostri giorni non emergono grandi differenze. Una sorta di continuità uguale a se stessa sembra attraversarla con rassegnazione e imperitura vocazione per la sconfitta. In politica, nei modelli economici, nell'assenza di un progetto culturale, il canovaccio non muta. Perché? Semplice e difficile al tempo stesso offrire una risposta a questo interrogativo. Non abbiamo mai espresso una vera borghesia cittadina, neanche di matrici agraria, come avvenuto a Lecce, per esempio. Non abbiamo mai potuto contare su un'università autonoma in grado di favorire la nascita e la selezione di una classe dirigente degna di questo nome. Il nostro sistema dell'informazione, poi, quando ha smesso di essere foraggiato e tenuto in vita dalla democrazia cristiana, innervato su giornali di partito che si atteggiavano ad apparire come altro, come quello che non erano e mai sarebbero diventati, ha scelto la ritirata al mercato e alle sue ferre leggi. Un popolo di formiche siamo noi, oggi come ieri, allergici al merito, avvezzi alla peste trasformistica, antimoderni perché intrisi dell'affare a digiuno del progetto. Taranto è la questione meridionale all'interno della questione meridionale. Tommaso Fiore l'aveva capito agli albori del secolo scorso, i tarantini ancora no.